Intro Ciao a tutti ragazzi da Bluff Forever Oggi un nuovissimo video Uno dei video più importanti forse che ho fatto finora E' un Wogger Match contro TheBetanceGamer Il link chiaramente ve lo do in descrizione di questo bravissimo youtuber Della quale faccio il grafico E mi son fatto questa squadetta qui per l'evenienza Spero di vincere Ora aspetta il suo invito Sono carico al massimo Ce la possiamo fare Uh è arrivato il nostro invito Quindi entriamo nella partita Molta attenzione 100.000 crediti on the air On the line Blau on youtube contro RPV if Dai eh Voglio una super vittoria Vediamo la squadra Porca di quella C'è chi importa Difesa con David Luiz e company Centrali Clichy sinistro Destro Walker Centrocampo a tre con Ramirez Collo Tour Yaya Touré Scusate Fernandinho Attacco con Hazard A sinistra Lucas a destra E Robin Van Persie Al centro Sono letteralmente fottuto 100.000 crediti che se ne vanno Dai eh Comincia la partita Bravo Grande gol Subito Partiamo alla grande Grandissimo gol di Lacazette Sione lancia Van Persie Van Persie Fermiamolo Grandissimo Diago Silva Così Avanti tutta Lacazette Fernandinho Il contropiede Val Buena Cerca Iovedice Clichy all'indietro Per check Iovedice Matuidi Lancia benissimo Val Buena Lo stop è ottimo Cross bruttino Fernandinho La casetta è in aria Val Buena Ragazzi al tredicesimo minuto Fernandinho Il cross dentro Iovedice Che peccato Potevamo chiudere Forse è già qua Però io non mi fido Gran che Mi ho messo a battuta Malissimo Hazard Fermato da Maicon Che però perde subito Palla Hazard Il cross dentro È bello Van Persie Non riesce a tirare Come vorrebbe Di resta Fernandinho Allora Per Oscar Oscar Preferisce il cambio Di fascia Bellissimo il cambio Di gioco per Val Buena Che prova a lanciare Iovedice Che si era fermato Walker la tiene in gioco Fernandinho La lontana E potrebbe ripartire Un contropiede Ragazzo Hazard Mamma mia Qua Digne Radassilicu Sbaglia tutta Hazard Lucas Cazzo L'ha passata Van Persie Gol Ai 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 E mi dici Di starmi calmo E vabbè Cominciano A calpestare Il gioco Mamma mia Che intervento No Cazzo Non mi dire Che mi è rosso Che ci rimango Di merda Porca Di quella Gioco con un terzino Poi non capiamo Ancora Come cazzo Ha fatto A passare Quel pallone Però Cazzo Non ho Giovato Di meno Devo Sostituire Qualcuno Viric Eppure Lenzo Non l'ho mai Provato Ad essere Sincero Viric Forse Anzi Qualche Fata Sì Dai Viric No Non si può Fare Stato Di cazzo Tira No 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 Non ci credo Che cazzo Ho fatto Che monta Assurda Ma che Sto Combinando Io Ho vedic Attenzione Qui Questo bel pallone Per Valpoena Valpoena Prova il tiro Il miracolo Di check Oh Anche se non è miracolo Però una bella parola Guardate Di cazzo Non perdete Questo pallone Quattro minute Tre minuti Anzi No È finito Cento Mila Crediti Sì Erano belli Erano belli Però Cazzo Cazzo E' finita C'è già Era finita No No Cazzo Io Dov'è il fallo Qua sul guancio Del cavolo Non capisco più niente Io Dava almeno uno No Ma non c'è il tempo Dava gli oscar No Niente E' finito E' pazienza E' pazienza Eravamo Sopra i 2-0 Poi Quell'espulsione Ci ha fregato in pieno Perché non avevo poi I terzini da poter mettere Dovevo mettere I vidici centrale Tiago silvio Invece era terzino Ma non voleva andare Ho impaccato Ci sono rimasto male Però Complimenti al nostro Pedans Vediamo un attimo Le statistiche Se di lui Importa Io 5 Lui 10 Diri lui Io 6 Vabbè Ci sta comunque I di l'importa Sono stati quasi Gli stessi Però Vittoria Meritare Non possiamo dire niente Vittoria